Buongiorno, buon lunedì, buon inizio di settimana con la nostra rassegna stampa. Siamo pronti per andare a vedere i titoli principali, le notizie principali dei quotidiani che trovate già in Edicola, ovviamente con un particolare focus sulla pagina sportiva molto ampia che ieri ha regalato alle formazioni abruzzesi solo buoni risultati. Ma partiamo subito con le prime pagine, con le quattro edizioni del quotidiano Il Centro perché oggi lunedì 16 settembre è anche giorno di ritorno a scuola per molti studenti e allora molti studenti abruzzesi come vediamo lo faranno insieme al Capo dello Stato. Mattarella con gli studenti abruzzesi, questa è l'apertura dell'edizione del Centro di Pescara ma poi vedremo che sarà l'apertura di tutte e quattro le edizioni e non solo anche del messaggero. Il Capo dello Stato inaugura l'Aquila all'anno scolastico a Pescara in classe in 12.000. Nel box in alto questioni di politica nazionale, regionali, apertura del Movimento 5 Stelle al PD e Salvini in fiamma ponti da partiti a confronto. Poi lo vedremo soprattutto nelle prime pagine dei quotidiani nazionali. Scendiamo in pagina la foto del lunedì dello sport il Pescara fa il colpaccio vittoria 2-1 a Cosenza ma ansia per le condizioni di Tuminello che qui vedete esultante ma che poi è uscito per un infortunio serio al ginocchio. Nelle cronache in 6.000 per Ruggeri siamo a Pescara, multate decine di auto la notte dello shopping, sempre a Pescara era paralizzato, ora muove braccia e gambe e intervento al nosocomio pescarese. A Francavilla la ragazza accoltellata adottata il mio cane è stata operata un'altra volta e resta in gravi condizioni ricoverata in reanimazione di Chieti. La 33enne Moldava accoltellata il 3 settembre 11 volte da uno spasimante respinto. Siamo su Gran Sasso salvata escursionista di Torre dei Passeri. Di spalla altro sport ma sport che riguarda non la nostra regione ma per esempio il campionato di Serie A, il Milan fatica, Roma valanga, gran rimonta del Bologna. Nella foto il tecnico abruzzese peraltro Marco Giampaolo che ieri sera con il suo Milan ha battuto 1-0 il Verona al Bente Godi. MotoGP ieri era il giorno del Gran Premio di Misano, capolavoro di Marquez, Valentino Rossi termina quarto. Cambiamo edizione, andiamo su quella di Chieti, Lanciano Vasto, vediamo che cosa cambia. Allora dobbiamo andare sul lunedì dello sport ovviamente, cambia la foto notizia, Serie D, colpo del Chieti e la Vastese. Stende il Fiugi in basso, primo successo per il Lanciano, poker col tecnico di Pasquale 4-2 al Ponte Vomano per i Frentani dopo un inizio non brillantissimo nel campionato di eccellenza. Nelle cronache a Chieti sigiglia i due palasporti, il Comune fa ricorso, il Comune prova a riprendersi i palasporti di Colle dell'Ara e di Santa Filomena, ad oggi ancora chiusi su ordine del Tribunale dopo il fallimento del CUS. a Lanciano aggredito dal branco, ora rischia un occhio, a Chieti ubriaco si schianta in auto, grave un 54enne. E poi per i trasporti, Vasto San Salvo, biglietteria riaperta, la stazione si rilancia. Questo è quello che cambia nell'edizione teatina del centro, andiamo su quella teramana, anche qui c'è una foto nel lunedì dello sport. Teramo primo squillo, Serie C battuta 2-0 la Cavese davanti a 3.000 spettatori. Non solo Teramo, Giulianova ottimo pari sul campo del Matelica. Nella foto Domenico Surriano che ieri ha battuto il calcio di rigore con cui i giallorossi hanno impattato 1-1 proprio sul campo dei matelicesi. Nelle cronache siamo in Val Vibrata, per la precisione a Colonnella, schianto con la moto grave un sedicenne, in gravi condizioni. All'ospedale Le Torrette di Ancona dopo essersi schiantato con la moto da Cross. Incidente avvenuto tra Monte Prandone e Monsampolo, quindi siamo nell'Ascolano. Artigiano muore abbellante, stroncato da un infarto mentre va in bicicletta. Giulianova ucciso da un'auto pirata. La figlia non fuggite, parla la figlia di Camillo Pechini, il pedone di 89 anni, travolto da una macchina pirata e morto dopo una lunga agonia. Lancia un appello. In Val Vibrata manca un tecnico, gare d'appalto ferme. Chiudiamo le quattro edizioni del centro con quella aquilana. Il lunedì dello sport anche qui, serie D per l'Avezzano, arriva un pari su autogol. Autogol in basso, promozione e riscatto dell'Aquila dopo la sconfitta di settimana scorsa contro il Mutignano. Abbattuto al Gran Sasso Itola Concia il piano della lente con il gol del bomber Maisto. Nelle cronache l'Aquila, niente sottosegretario, delega del Sisma. Va direttamente al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. A San Benedetto dei Marsi, minacciato di morte, l'assessore Cerasani. A Sulmona, case popolari, chiavi alle prime famiglie. Consegnate le prime quattro case ad altrettante famiglie del contratto di quartiere. All'Aquila, decennale del terremoto, sfilano 7 mila alpini. Cambiamo quotidiano adesso, andiamo sulla prima pagina del messaggero. Ovviamente la parte che riguarda la nostra regione. Anche qui l'apertura è dedicata alla prima campanella con il capo dello Stato, Mattarella. Il presidente della Repubblica oggi all'Aquila per l'apertura dell'anno scolastico. Anche a Pescara si completa il ritorno in classe. Più ore di assistenza per i disabili. A proposito dell'Aquila, vediamo nel box, dieci anni dopo il sisma, l'Aquila riabbraccia i suoi alpini. Il grazie alle penne nere in occasione del raduno di spalla. Vini super al top Valentini e Masciarelli. Brilla anche Villa Medoro. In alto, come vediamo, moltissimo sport per il volley. La siecortora promette bene dopo la prima amichevole. In serie C il Teramo in gran spolvero batte la Cavese e brinda al Bonolis. In serie D Chieti-Corsaro vincono Vastese, Notaresco e Pineto. Ottima domenica per le abruzzesi, nessuna sconfitta. Regge il Giulianova di Delgrosso a Matelica. Avezzano sfortunato il successo. Sfuma per autogol. A centropagina il Pescara. Cinico e spietato che sbanca Cosenza. Uno a due, vittoria però offuscata dall'infortunio di Tuminello, autore del primo gol. Tuminello gol e grave infortunio. Poi Galano nel finale per l'uno a due. Questo che vedete in foto è proprio l'abbraccio tra Cristian Galano e Magnero che era subentrato proprio a Tuminello dopo l'infortunio. Per la cronaca, doppio incidente in montagna, in due in ospedale. Fine settimana di superlavoro per le squadre di soccorso. Interventi sulla Maiella e al Voltigno. A Cerchio, studenti a piedi. Il sindaco di Cerchio, Gianfranco Tedeschi, annuncia una denuncia contro la tua che ha lasciato a terra 30 studenti di Cerchio. Stessa sorte anche per 10 operai. In basso Lanciano, feste e violenza. Un ragazzo è stato aggredito. Aggressione avvenuta nella notte in largo bianco. Un minore è finito in ospedale con un occhio ferito. Sarebbe stato picchiato da un branco. Chiudiamo con le prime pagine dei quotidiani di Casa Nostra. Andiamo sulle prime pagine dei quotidiani nazionali. Partendo dal Corriere della Sera, sfida al governo da Pontida. Salvini, referendum anche sulla sicurezza. Movimento 5 Stelle PD, un patto per l'Umbria. Il leader della lega alla manifestazione più partecipata del carroccio, Zingaretti Arrenzi, dice restiamo uniti. L'intervista al neoministro dell'istruzione Fioramonti e ai professori. 100 euro in più in busta paga. E poi nella foto la sofferenza di Ezio Bosso, il pianista. Non posso più suonare, vediamo la confessione del musicista. Non posso più suonare, se mi volete bene smettete di chiedermi di mettermi al pianoforte. Ospite della Fiera del Levante a Bari, ha raccontato la sofferenza, soffre di una patologia degenerativa. Cambiamo quotidiano e andiamo sul fatto quotidiano. L'apertura è dedicata alla politica. Di Maio rompe un altro tabù. Via i partiti, candidati civici. Umbria, il capo dei 5 Stelle, punta all'imprenditore Cucinelli, che piace anche al Partito Democratico. In alto accordo con i talebani, anzi no, Trump fa casino in Afghanistan. E poi il rol incantò Agnelli, Fellini e molti altri, fuffa o supereroi. 25 anni fa moriva colui che predisse la fine al Duce. A centro pagina, l'Italia come gli Stati Uniti, prestiti per far studiare i propri figli. Una storia di copertina. Referendum e Bibiano, messa cantata di Salvini, Pontida, raduno affollato e insulti anche ai cronisti. Che è una parte consistente della prima pagina di Repubblica, che apre con l'urlo di Pontida. Torneremo, raduno della Lega ad alta tensione, minacce e insulti antisemiti a Gad Lerner. Aggredito un video operatore di Repubblica. Salvini all'attacco. Mi riprenderò il governo. Referendum anche sui migranti. E porta sul palco una bambina di Bibiano. Zingaretti a Renzi. Resta nel PD. Di Maio apre all'Alleanza in Umbria. Il commento senza neanche chiedere scusa. E poi Gad Lerner che parla proprio dalle colonne di Repubblica. E Matteo cerca il perdono dei suoi. Il racconto della giornata di Pontida. Esclusiva intervista al presidente della commissione Ursula von der Leyen. Ecco l'Europa che vorrei, il nostro stile di vita e proteggere i più fragili. Libero. Cambiamo decisamente riferimenti politici rispetto all'indirizzo del quotidiano. I cannibali al governo. Salvini giudica i suoi. L'ex ministro dell'interno a Pontida. Con i Dem il paese tornerà ad essere un campo profughi. Faremo un referendum contro i clandestini. Sindaci e governatori devono opporsi all'invasione. A centropagina la foto dell'ex ministro dei trasporti Toninelli. Ma che razzisti siamo salvatori Toninelli sui migranti. Il governo Movimento 5 Stelle e Lega ha indicato la via. Il grillino. Le ONG violano i trattati e sull'accoglienza fanno troppi affari. Il messaggero, la parte nazionale. Conte a Macron, porti a rotazione i migranti. La proposta all'incontro di mercoledì. Sbarchi anche in Francia, Spagna e Croazia. Lo scoglio ricollocamenti automatici. Salvini a Pontida. Il referendum si smontano i decreti legge. Sicurezza nei box. Di Maio apre all'intesa in Umbria. Ma il Movimento 5 Stelle boccia il civico del PD. E poi Arabia. L'attacco ai pozzi di petrolio spaventa i mercati. Incubo aumenti. Trump accusa l'Iran ma il dialogo prosegue. A centro pagina. Sigarette elettroniche in arrivo di vieti come per il tabacco. Il piano dell'Istituto Superiore di Sanità. Stop nei locali pubblici e slogan negativi. Ovviamente siamo sul messaggero e quindi non può mancare anche la parte dello sport. Soprattutto per quanto riguarda lo sport capitolino. La Roma a Valanga. Poker all'Olimpico contro il Sassuolo finisce 4-2. Delusione Lazio invece. La SPAL passa nel finale 2-1. Il sole è 24 ore. Affitti lunghi in crisi nelle città. Il mercato punta sui contratti brevi. In ribasso gli accordi liberi tradizionali calano del 13%. E mancano gli alloggi nei grandi centri. Pesano rischi omorosità e vincoli sui proprietari in rialzo. Rendimenti superiori dal 60 al 200%. Con la formula corta. I locatori che scelgono la cedolare secca al 21%. Quadruplicati dal 2011. Web Tax, il rompicapo globale. Giganti sottotiro tra accordi giudiziari e nuovi prelievi. Molte iniziative in ordine sparso. L'ipotesi emergente. Tassa mondiale per tutte le multinazionali. Non solo quelle digitali. Pensioni. Già 341 mila. Le uscite anticipate con i nuovi scivoli. La laurea agli uomini rende 190 mila dollari più del diploma Italia. Agli ultimi posti nella classifica Ocse. Il mattino migranti pressing su Macron. Conte porti a rotazione per gli sbarchi. Ricollocamenti condivisi. Mercoledì vertice a Roma. Salvini. Referendum se smontano i decreti. Antisicurezza, PD, Movimento 5 Stelle, alleanze anche per le regionali. A centropagina lo sport, la Champions, Raio e il futuro. Vi dico tutto. L'intervista al mattino di Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli. E poi questa storia che riguarda la scuola. In un posto come Scampia, pur di ritornare a scuola, mi taglio anche le trecine. La lezione di Lino, 13 anni, alla preside che non cede. La mamma, ma non la perdono per averci dato degli ignoranti. Studente che è stato per il momento escluso dalle lezioni perché aveva, come vedete, le trecine blu. La verità di Maio allarga l'inciucio e consegna i grillini al PD. Il leader politico dei 5 Stelle ci prende gusto e ipotizza di mettersi con i dem in Umbria. Dove si vota alle regionali dopo lo scandalo sanità con la scusa dell'aggiunta civica. L'asse con la sinistra è totale. E Franceschini applaude. Il ministro degli esseri pensa alle poltrone locali. Un'altra donna picchiata a caso da un clandestino, Gloria Cuminetti, 30 anni, attrice di teatro e cinema, è stata aggredita a Torino. In basso Salvini, referendum sul decreto sicurezza. In una pontida da record, il segretario attacca per la prima volta gli ex alleati e punta ai loro elettori. Il tempo, così Macron si è pappato l'Italia, dalle saline pugliesi al parmigiano emiliano e poi energia, servizi moda. Mentre la politica se la dorme, i cugini d'oltralpe fanno il pieno di eccellenze nostrane. E poi la riscossa di Salvini parte dal prato di Pontida nella frase, sempre ironica, di Oscio. C'è questo invito di Salvini a rimanere perché tra poco partirà la musica messa proprio da lui. Ma è ovviamente un'interpretazione ironica. Ruspa Roma invece, poker calato e sassuolo capo. Siamo allo sport, spettacolo all'Olimpico è 4 a 2 e invece la solita Lazio prima spreca e poi perde. Andiamo avanti. La stampa è il neocommissario all'economia Gentiloni che dice l'UE, l'Unione Europea riparte dai diritti. Lavoriamo all'assicurazione sociale, è un nuovo Green Deal. Lega Salvini a Pontida lancia la strategia dei referendum, li faremo anche sui decreti di sicurezza. Umbria, prove d'intesa, PD Grillini, Di Maio svolta dopo una telefonata con Cucinelli, ma fuori i partiti. Elezioni in Israele, duello all'ultimo voto tra Gantz e Netanyahu. E poi il secolo.it, la foto di Gad Lerner viene definito provocatore di mestiere. Si presenta a Pontida e fa la vittima per qualche parolaccia, non può aspettarsi altro da chi insulta ogni giorno. Le petizioni alla Meloni si parte dal maggioritario, Salvini dice sì proprio alla Meloni, lega per il maggioritario, alleanza politica, Movimento 5 Stelle e PD si parte dalle regionali. Il secolo XIX con cui chiudiamo, autostrade, resa dei conti sul futuro dei manager, IPM, documenti nascosti. Oggi si riunisce il CDA della Holding dei Benetton, rischia l'amministratore delegato Castellucci, le carte dell'inchiesta sui viadotti e soprattutto sul Ponte Morandi di Genova. Pressioni imbarazzanti da parte dei dirigenti. In alto per lo sport, visto che siamo sul secolo XIX, quotidiano genovese. Il Genoa combatte senza paura, ma beffa di Zapata che arriva a tempo scaduto contro l'Atalanta. E poi scuola, partenza, ostacoli, pochi professori e tanti cantieri. Andiamo adesso sulle prime pagine dello sport, ieri giornata di campionato, che deve concludersi questa sera con Torino Lecce. Siamo alla vigilia anche della Champions, ma ieri sera c'è stata la vittoria del Milan, pum pum, che derby. Piontek, gol e brividi, Milan 1-0 a Verona. Leggiamo contro i gialloblu in 10, il polacco si sblocca sul rigore ed esulta, zittendo le critiche. Vediamo proprio nella foto Piontek con il dito davanti alla bocca. I rossoneri con poche idee soffrono fino alla fine, ma sabato prossimo possono agganciare l'Inter. Infatti c'è il derby. Meneghino in alto, quasi nemici, Sarri in difficoltà, Conte alza la tensione, l'Inter Juve già scotta dall'AFA a Firenze. A chi sta dalla parte forte, i due continuano a non risparmiarsi delle stoccate. Occasione Toro, se batte il Lecce, supera la Juve e resta in testa alla classifica. Alle 20.45 il posticipo, Mazzarri il rinnovo. E' una formalità. E poi altre notizie. Il Bologna, Sinisa al telefono, guida la rimonta del Bologna. 3-4 poi tutti da lui, come vediamo nella foto in ospedale. Il Bologna che è andato a festeggiare la vittoria sul Brescia, proprio sotto l'ospedale dove è ricoverato l'allenatore. Rosso-blu, Sinisa Mijajlovic. Davvero un bel gesto. Atalanta, l'ultima zampata, è pronta per la Champions. Le due facce della capitale, Roma Show, 4 gol in 21 minuti. Arachiri Lazio va a K.O. al 92. E poi in alto, altri sport. Marquez, primo in casa di Valentino Rossi, che dice non abbasso la testa. Ieri c'è stata anche la finale del Mondiale di Basket. Ha vinto la Spagna di Sergio Scariolo. Annata trionfale per il coach italiano. Così ho vinto il Mondiale con la Spagna. Complimenti anche a Sergio Scariolo. Andiamo adesso sul Corriere dello Sport, che apre con un derby d'Italia già caldissimo. Juve ce l'ha con te. Gioco di parole. Antonio attacca. Maurizio per ora non risponde, ma il sorpasso dell'Inter accende la rivalità tra i due tecnici e i due club. Che il 6 ottobre si incontreranno a Milano. In alto la Roma è spettacolo. Quattro gol in mezz'ora a Sassuolo. Mkhitaryan segne di verte. Poi Berardi ne fa due, ma è troppo tardi. La Lazio invece crolla a Ferrara in basso. Irresistibile Italvolley europei con la Romania terza vittoria. Magliazzuri cedono ancora un 7. Scariolo, Mister Mondo, basket la Spagna del tecnico italiano batte nettamente in finale. L'Argentina. Uragano Marquez è re di Misano. e sorpassa Quartararo e trionfa in Casarossi mettendo insieme il settimo sigillo. Chiudiamo con tutto sport. L'apertura. Toro, falli, sognare. Stasera con Lecce l'occasione di raggiungere l'Inter in vette. Granata non vincono le prime tre partite da 43 anni. Abbonamenti e record. E qui c'è la foto di Belotti con dietro la curva Granata del Toro. Di spalla, meraviglia zappata. Champions arriviamo. E poi ignobili bua che sì, pionte che gol, poco Milan. Verona urla. In alto si torna sulla sfida a distanza. Conte Sare è solo l'inizio. Il duello verbale a distanza aperto sabato sera dall'interista. Sarà il filo conduttore di una stagione che vedrà Inter e Juve lottare per lo scudetto. Noi ci fermiamo per il momento. La prima parte di Mattino 6 termina qui. Adesso le previsioni del tempo, la pubblicità. Poi al rientro sfoglieremo i giornali di casa nostra. Seconda parte di Mattino 6. Allora entriamo all'interno dei nostri quotidiani. Ripartiamo dalle pagine di primo piano del centro. Eccola qua. Una doppia pagina. Abruzzo 1 e Abruzzo 2. Il Tar spiana la strada al Colosso da smontare. L'ex merker di Tocco da Casauri avvince la sfida contro Consorzio di Regione. La nuova proprietà polacca può ridimensionare tutto senza pagare maxi oneri. Dall'altra parte invece rinasce un simbolo della maiella. Il rifugio Fusco ricostruito in 24 ore con l'elicottero. Il CAI compie l'impresa grazie a un gruppo di appassionati della montagna. Nel 1974 utilizzarono un mulo per costruirlo a ben 2450 metri di altitudine. Oggi si riparte con lo sciopero dei bus. Marsiglio saluta 173 mila ragazzi per il primo giorno di scuola. Il governatore lo studio richiede sacrificio perché la vita là fuori è sempre più difficile. Andiamo avanti. La pagina dell'Abruzzo, l'abbraccio dell'Aquila ai 7 mila alpini. Tornano 10 anni dopo il sisma. Capologo invaso per tre giorni dalle penne nere. Una festa ma anche una toccante. Memoria del terremoto. Vedete le foto. In basso il Trebbiano Valentini nei top 50. La giuria del Biwa segna il vino del produttore di Loretta Prutino. Il 29esimo posto in Italia. Siamo a Pescara. Riaprono tutte le scuole. Da oggi in classe 12 mila studenti. Calo di iscritti. No al pasto da casa. Lavori terminati su tetti, finestre, tapparelle. Scongiurato il rischio di cantieri aperti durante le elezioni. Mancano 375 ragazze rispetto al 2018. Presidi contrari al panino. Chi vuole può mangiare in famiglia. Ci sono i dati anche dei numeri della scuola di questo nuovo anno scolastico. La notte dello shopping in centro. Insemira al concerto di Ruggeri. Negozi affollati. Raffica di multe. Commercianti soddisfatti. L'iniziativa ha riscosso successo. Ma bisogna programmare in tempo. 6 vetture rimosse dalla Polizia Municipale. 40 verbali elevati ad auto e motorini per sosta vietata. In basso i tassisti pescaresi penalizzati dalla Regione. Chiesta la revoca del decreto che attribuisce ai tetini due posti all'aeroporto. Pignoli dice il caso in consiglio. Per la sanità. Entra in ospedale paralizzato. Adesso muove braccia e gambe. Intervento d'eccellenza. Pizzaiolo di 51 anni racconta la sua rinascita. Il professor Digidio mi ha restituito la vita. L'operazione effettuata dall'equip del primario di radiologia è la nona del genere al mondo. E a proposito di sanità, raccolti fondi contro la fibrosi cistica, serata di beneficenza per sostenere un progetto di formazione di fisioterapisti. A Francavilla operata la ragazza accoltellata. Appello per adottare il cane eroe. Nuovo intervento chirurgico per la 33enne ferita da uno spasimante respinto nella sua abitazione. La prognosi resta riservata. La sorella chiede aiuto per Gucci che vediamo in foto. L'animale che ha bloccato l'aggressore. Dall'altra pagina cade e fatica a respirare. Salvata donna di 59 anni. La signora di Torre dei Passeri è scivolata durante un'escursione sul Gran Sasso. Ha riportato un trauma toracico decisivo. L'intervento del soccorso alpino a Montesilvano messe palloncini per ricordare il ragazzo Antonio Bevilacqua ucciso. Scendiamo la vecchia Pescara in un video all'Aurum oggi alle 18. La proiezione del filmato con i racconti di Pietro Cascella e il contributo di Duccio. A Chieti, comune, un nuovo ricorso per riavere il Palasport. Ecco un'altra istanza dopo i sigilli scattati a Colle dell'Ara e Santa Filomena. Il sindaco rervire le strutture è fondamentale per le società cittadine. E intanto stadio firmata la convenzione. Lavori per 150 mila euro. Sarà pronto per gennaio ovviamente. Parliamo dello stadio Guido Angelini di Chieti che in questo momento non può essere utilizzato dalla formazione nero-verde. A Lanciano, aggredito dal branco, rischia un occhio, pugni in faccia. A 11 a 7 anni da 6 coetanei. Appello del papà, chissà, parli. Sempre grave, lo chef caduto da 5 metri. Lanciano, feste patronali, pienone in piazza per Max e Gazze. Oggi la chiusura con Malikaianne in basso, ubriaco, si ribalta con l'auto. Grave un teatino di 54 anni, schianto in via dei Frentani. Siamo all'Aquila, doppia pagina. Bentornato presidente, festa per mille alunni. Il capo dello Stato ha la Maria Leventre. Medaglie a docenti e dirigenti. Oggi in Mattarella all'Aquila per l'inaugurazione dell'anno scolastico. Come vi abbiamo già detto, un giorno da ricordare in attesa della nuova sede. L'emozione della dirigente scolastica Gabriella Liberatore. E poi, dall'altra parte, Borrelli, il capo della protezione civile. Niente sottosegretario. Al Sisma, dice, penserà direttamente il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Ma vediamo, a proposito della visita del capo dello Stato all'Aquila, prima della cerimonia, l'omaggio alla pietra della memoria dedicata alle giovani vittime del sisma a Colle Sapone. Questo è rapidissimamente il programma del capo dello Stato. A Teramo, la tragedia, la figlia del pedone travolto. Scappare non serve a nulla. Il 2 giugno, il pare di Ada Pechini venne ucciso da un'auto pirata, rintracciata dopo mesi. Ho sempre creduto nel lavoro della polizia. Sapevo che l'avrebbero trovata. E poi, ad Alba Adriatica, corse clandestine di cavalli. Rischio incidenti in vibrate. I residenti denunciano come gli animali corrono indisturbati, spesso trainando anche dei calessi. Sono in particolar modo i ragazzi e i motociclisti ad avere paura. In basso, gare d'appalto bloccate in tutta la vibrata. Sant'Omero, manca il responsabile dell'ufficio tecnico dei comuni. Bandito. L'avviso pubblico. Dall'altra parte, studente in prognosi riservata. A 16 anni si schianta con la moto da cross. Giovane di colonnella ricoverato in rianimazione. Dopo un incidente avvenuto nell'Ascolano, è finito. In un fossato, e oggi a Roma, l'autopsia sul pensionato, morto per le ustioni. A centropagina, siamo a Bellante, stroncato da un infarto mentre va in bici. 54enne, teramano, si sente male, si accascia sull'asfalto. Inutili soccorsi con il defibrillatore. In basso, domani deschi informativi negli ospedali. Giornata della sicurezza del paziente. Poi a Giulianova pesca il tonno rosso, vietato. E arriva una maxi multa per lui. Qui siamo allo sport e poi ci arriveremo anche con i servizi. Ma intanto rimaniamo sulle pagine di Cronaca e Politica, passando al messaggero. Siamo alla pagina di Pescara. Da oggi tutti in classe. Si completa il ritorno tra i banchi. A lavoro tutti gli studenti pescaresi. Dopo l'abbia anticipato delle lezioni in alcuni istituti. Piore di assistenza per i disabili. Scolari e cicloturisti. Nuovi ambasciatori della mobilità sostenibile. E poi soccorso lampo. Bimbo chiuso in auto. Panico, ma per fortuna il lieto fine. In basso, due escursioristi salvati nella notte. Le insidie della montagna. Coppia di tollo raggiunta a Rava del Ferro. Ricoverato l'uomo, ferito una donna, caduta sul voltigno. E poi una scommessa persa. Evade dai domiciliari per andare a giocare alla sala bingo. E viene arrestato. Dall'altra parte siamo all'Aquila. Il grande grazie agli alpini. Un abbraccio lungo dieci anni. Un fiume di persone nel cuore della città. Per il raduno in onore del battaglione L'Aquila. Una festa collettiva nel segno del ricordo per quanto accaduto dopo il sisma del 2009. L'analisi. Groningen e Oxe. Città della ricerca di Valenza europea. In basso. Assalto dei ladri al Daedalus. Attrezzatura rubata e danni. E poi il presidente Mattarella inaugura l'anno scolastico. Oggi all'istituto Marielle Ventra. L'evento nazionale a cui parteciperà. Anche il ministro Fioramonti. La protesta. Cambiamo pagina. Studenti a piedi. Esposto del sindaco. Quello di Cerchio tedeschi. Che va dal magistrato. Continuano le segnalazioni di disservizi per gli utenti. Anche un pendolare dall'Aquila denuncia una simile situazione dovuta al sovraffollamento del mezzo. E poi a San Benedetto dei Marsi minacce di morte all'assessore Antonio Cerasani. A Celano inaugurata moderna materna nel ricordo di Montagliani. In basso a Sulmona. Alle Marane un inferno per la puzza della discarica. Dalle otto di sera fino ad oltre l'una. Abitanti tenuti prigionieri in casa o costretti ad andare lontano. Cambiamo pagina. Archivio di Stato. Firmato il contratto. Presto i lavori. L'opera è stata aggiudicata a un'impresa di Roma. Intervento a 2,7 milioni di euro. Dal prefetto un plauso al recupero della Berardi. Sta a cuore a tutte le parti politiche della città. Sarà il primo cantiere ad aprire nell'ex ospedale militare. Ad Ortona aggiudicate le opere al Cinema Zambra. Il progetto di riqualificazione dall'importo di 150 mila euro. Prevede il recupero della struttura. In basso a Lanciano. Si pare sulle feste di settembre. Giallo su un ragazzo ferito che vedete in foto. Alto Vastese boccata d'ossigeno per le strade. Arrivano 4 milioni e mezzo di euro. Siamo a Teramo. SOS parcheggi. Negozianti più posti vicino al centro. Piazza Dante, no dei commercianti. Alla riduzione di stalli prevista dal comune. La Tercop, la chiusura delle strade, ci impedisce di lavorare. Zero incassi. E poi altre notizie. Esce in bici. Muore di infarto a 54 anni. Fabrizio Marinucci lascia la moglie e la figlia. in passato aveva un negozio di elettrodomestici. In basso, parrocchie, cambio al vertice. Ecco chi sono i nuovi sacerdoti. A Giulianova, pescato, tonno rosso. E arriva una maxi multa. In basso, pulizia della città. Siamo a Teramo. Alla raccolta rifiuti partecipano anche Sindaco e Assessore Gian Guido D'Alberto e l'Assessore delle manutenzioni Valdo di Bonaventura. A fianco, Beccaceci sfuma la riapertura. Piano B per il ristorante chiuso. Adesso veniamo alle pagine dello sport. Ecco qua, partiamo proprio con il messaggero che giudica il Pescara. Cinico e spietato. E spugna Cosenza con il minimo sforzo. Grazie ai lampi illuminanti di Tuminello e Galano. La squadra si accende nei minuti importanti. Conquista un prezioso successo per la classifica. Di spalla Galano, gara di sacrificio. Di grazie il rigore giusto. Di grazie che si è conquistato proprio il calcio di rigore del momentaneo 1-0 bianco-azzurro con Tuminello. Preoccupano gli infortuni del bomber appunto Tuminello e di Campagnaro. Costretti ad uscire. Bravissimi i ragazzi. Tegola Tuminello. Il ginocchio è KO. E allora andiamo sul centro. Cinico e spietato. Anche qui i stessi aggettivi. Il Pescara sbanca Cosenza dopo 21 anni. Grazie a Tuminello e Galano. Le prodezze dei singoli. La compattezza di squadra. Regalano il secondo successo di fila. In attesa di miglioramenti sul piano del gioco. Tegola Tuminello però vediamo. Rischia un lungo stop. Ginocchio KO. Se attendono gli esami per valutare l'infortunio. Calabresi imbufaliti. Il rigore inesistente. Occhiuzzi il vice di Braglia. Tuona il VAR anche in serie B. E allora noi ci andiamo a vedere il servizio della partita. Il nostro Paolo Renzetti. E poi le impressioni a fine gara del tecnico del Pescara. Luciano Zauri. Un Pescara operaio conquista un successo pesantissimo per 2-1 in casa del Cosenza al termine di 90 minuti incredibili e contrassegnati dal grave infortunio di Tuminello. Tre punti da dedicare all'attaccante Biancazzurro con la squadra del presidente Sebastiani che ha giocato una gara vigorosa in un clima caldissimo dando prova di cuore e carattere. E ora la Virtus Entella sabato prossimo all'Adriatico per un Pescara che inizia a far sognare i suoi tifosi. Zauri conferma per 10 undicesimi la squadra che aveva battuto il Pordenone con la novità di Vitturini per Balzano. Fra i calabresi Braglia opta per il 4-3-3 in campo. Gli ex pescaresi Corsi, Baez e Canutè. Caldo al San Vito Marulla dove si gioca di fronte a 8.000 spettatori e gli ordini di Luzzi di Molfetta. Le prime battute di gara vedono equilibrio con al quinto però un cross teso di Lazzar con la palla che sfiora la traversa e finisce sul fondo. Il gran caldo costringe i 22 in campo sin dalle prime battute a dosare le energie. Aggressiva la squadra di casa che cerca di sfruttare soprattutto il gioco sulle fasce. All'undicesimo azione prepotente di Canutè che dopo aver superato avversari come Birilli conclude dai 25 metri trovando la deviazione di Fiorillo in corner. Fra i Silani c'è un Canutè ispirato e molto motivato e vero motorino del centrocampo cosentino. Tra i Biancazzurri, Galano e Di Grazia si danno un gran da fare. Alla mezz'ora Sciaudone tocca in area Di Grazia che termina a terra per il direttore di gara in rigore con Tuminello che dagli 11 metri di potenza fa 1-0 dopo tanta sofferenza. Il Delfino è così in vantaggio con la gara che si mette in discesa e che potrebbe avere anche una nuova svolta al 32esimo quando Memushai pesca solo in area Galano che davanti a Perina fallisce il gol del raddoppio. Il Cosenza accusa il colpo ma riprende pian piano a spingere fino al 40esimo quando poi si infortuna gravemente Tuminello che viene sostituito da Maniero. Nel finale problemi anche per Campagnaro che viene sostituito da Drudi che fa il suo esordio stagionale con la maglia del Pescara. Nella ripresa nel Cosenza in campo con è legittimo per Carretta e Lazare. Le prime fasi di gioco vedono i locali in avanti. Al 21esimo Brucini in area pescarese mette alto. Il Delfino cerca di agire in contropiede ma Maniero è spesso isolato in avanti. I calabresi così spingono ma sono costretti a concludere spesso dalla distanza. Il match resta così aperto con il Cosenza a fare la gara. Con il caldo asfissiante cala il ritmo ma al 25esimo Sciaudone si inventa un tiro dai 25 metri che non lascia scampo a Fiorillo segnando così il gol dell'1-1. Parità al San Vito che si rianima con il Delfino ora costretto a subire la pressione dei locali. Alla mezz'ora si fa male anche Palmiero sostituito da Castanos. Biancazzurri sfortunati con tre giocatori fuori per infortunio e ora costretti a subire gli attacchi all'arma bianca della formazione di casa. Al 41esimo ancora Cosenza pericoloso con Fiorillo che riesce comunque ad alzare in calcio d'angolo. Al 43esimo però la difesa calabrese si addormenta e ne approfitta il Pescara con Castanos che ispira Galano che in contropiede entra in area sul filo del fuorigioco mettendo alle spalle delle portiere di casa. Per l'ex Foggiano e la terza rete stagionale. Per la squadra di Braglia un brutto colpo con il Delfino che così dopo sei minuti di recupero festeggia una vittoria che vale davvero oro. La vittoria del coraggio, la vittoria della sofferenza, squadra che oggi ha dimostrato di avere soprattutto un grande carattere. Sì, noi dobbiamo crescere, dobbiamo crescere su tutti i punti di vista. Abbiamo fatto vedere dei problemini nella prima partita, nelle prime uscite che erano quelli di compattezza. E quindi dobbiamo cercare di trovare un giusto equilibrio che chiaramente per quanto mi riguarda non dovrà essere quello di oggi a prescindere. Perché comunque sia noi abbiamo bisogno di andare in avanti, di provare a giocare, di fare altre cose. Però spesso nel calcio bisogna fare quello che serve. Oggi serviva una partita di carattere, di grande voglia di soffrire. I ragazzi l'hanno messa tutta e poi alla fine la loro grinta, la loro voglia è stata premiata appunto con il gol nel finale. Dopo l'infortunio di Tuminello, in campo Maniero e non Brunori, perché? Sono due giocatori che meritano, sia Maniero che Brunori. La settimana scorsa è entrato Brunori, è una scelta dettata anche dal momento. Volevo giocarmi la carta Maniero da ex, mi metto un po' di spirito di rivalza. Quindi oggi Maniero ha fatto bene la sua parte, così come gli altri. Per chiudere, Luciano, prossimo turno, big match, classifica la mano. La prima, la virtù Santella, contro il Pescara che ha conquistato due vittorie su tre. Non abbiamo paura di nessuno, noi vogliamo crescere, vogliamo continuare questo percorso che abbiamo appena iniziato. Non dobbiamo assolutamente essere presuntuosi, non ce lo possiamo permettere. Dobbiamo avere l'ambizione giusta di una squadra che è giovane, una squadra nuova, che sta cercando anche il suo equilibrio. Quindi aspettiamo l'entere con piacere perché gli vanno fatti assolutamente i complimenti per questo inizio molto forte. Allora avete sentito dunque le parole di Luciano Zauri che riprendiamo anche sul centro preoccupato, dice il tecnico Biancazzurro per Tuminello. L'infortunio del bomber mette innanzi al tecnico il problema al ginocchio, potrebbe essere serio. E questa è la foto di Marco Tuminello con il ginocchio fasciato, aiutato a lasciare l'impianto. San Vito Marulla di Cosenza. In basso le parole del Man of the Match, Galano, il mio gol è tutto merito di Castanos. L'attaccante ringrazia il Cipriota per l'assist, di grazia questa è la vittoria del gruppo Le Pagelle. La difesa regge di fronte agli assalti, bene Vitturini chiamata a sostituire Balzano. Galano si esalta quando viene lasciato libero di svariare sul fronte d'attacco, prende un 7 l'ex attaccante di Bari e Foggia. Nel posticipo Pisa è implacabile, la Cremonese cade, i nerazzurri canano il poker. In gol ha anche il frentano Verna. Per quanto riguarda i risultati delle giovanili biancazzurre, under 15 e under 16, vincono con goleada. Passiamo adesso alla Serie C, il Teramo piazza, due colpi da Maestro. Bello il primo gol di Magnaghi, capolavoro quello di Bombaggi, piegata la rognosa Cavese. Arrivano i primi punti, Biancorossi ancora in ritardo, la manovra è lenta ma si intravedono i segni di una squadra forte. Tedino, i cinque cambi hanno fatto la differenza, il tecnico mezz'ora ad alta intensità. Poi era inevitabile un calo, cresceremo. Bombaggi, scintilla scoccata, faremo divertire. Vicino l'ingaggio di Gomez, meccanismi da oliare, i botteghini non smaltiscono la lunga fila. Qualche tifoso rinuncia e torna a casa. Vediamo adesso sul messaggero, Teramo all'inglese domina la Cavese. Magnaghi e Bombaggi con una rete per tempo rompono il digiuno del diavolo al Bonolis. E oggi arriva un nuovo rinforzo, si tratta di Tony Gomez, 21 anni, attaccante portoghese. Il saluto ai tifosi, quasi 900 abbonati, il saluto da parte del presidente, il neopresidente Franco Iachini. In basso Tedino, giusto ripagare chi ha investito tanti soldi. E allora noi ci andiamo a vedere il servizio della nostra Ania Cantagalli e poi l'intervista proprio al tecnico biancorosso Bruno Tedino. La scintilla chiamata da Tedino è arrivata, adesso il Teramo dovrà trovare continuità di marcia. Il biancorosso entra nella prima vittoria stagionale proprio allo stadio Bonolis, 2-0 su una Cavese, che riesce a fare ben poco per impensierire il diavolo. Nel rinnovato impianto di Pianodaccio con il nuovo manto e di seggiolini in tribune distinte richiesti dalla Lega Pro, il presidente Franco Iachini fa un breve giro del campo prima del fischio d'inizio per salutare i quasi 3.000 tifosi presenti alla prima casalinga della stagione. Il Teramo tiene il possesso palla nel primo tempo, ma non trova da subito tempi e varchi, anche per il muro eretto dalla Cavese, che lascia praticamente solo Germinali in avanti. Ci prova subito a Rigoni con un tiro dalla distanza che bisogno respinge. A scuola di Moriero si fa vedere all'undicesimo con un tentativo, anche in questo caso dalla distanza, ma di Roberto non inquadra la porta. Al quarto d'ora Martignago, tra i migliori, ci prova dagli sviluppi di un calcio di punizione, ma non trova lo specchio. L'episodio che però sblocca la gara arriva al ventottesimo. Ancora Martignago mette il moto di Matteo, che serve a sua volta in mezzo per il primo centro stagionale di Magnaghi. E ancora Teramo ed ancora Martignago al trentacinquesimo. L'ex albistola fa tutto bene in aria, mirino a parte. Nel finale del primo tempo la Cavese alza il baricentro e prova a creare qualcosa. L'unico episodio però arriva dai piedi di Russotto, che chiama fuori Tomei e mette al centro, ma sia Lulli che di Roberto cadono in aria. Va atteso circa un quarto d'ora nella ripresa per il primo episodio degno di nota. Bombaggi batte una punizione sul lato corto e bisogno è fondamentale nell'evitare l'autorete di un compagno. La Cavese prova con estrema difficoltà a far qualcosa, ma il risultato è che i campani non producono praticamente nulla di interessante. Al venticinquesimo a Dessi approfitta di un errore in uscita per mettere in mezzo, ma Tomei salva senza problemi. Brivido invece al ventottesimo, quando Matera disegna una traiettoria che si stampa sulla traversa. La palla sbatte poi sulla schiena di Tomei e finisce in angolo. Al trentaquattresimo torna a fare il suo esordio in maglia biancorossa a Costa Ferreira, dopo l'esperienza di otto anni fa. Ma due minuti più tardi ci pensa Bombaggi a mandare i titoli di coda sulla gara, con un bellissimo tiro che finisce sotto l'incrocio e che fa festeggiare il Bonoles. Per i biancorossi arriva così il primo successo in campionato, a cui provare a dare continuità sabato prossimo contro il Rende a Vivo Valencia. Siamo felici perché speriamo sia nata finalmente un trend, è dato da una vittoria, siamo giunti a casa, quindi tutto ha un sapore diverso. Poi regalare tre punti alla proprietà e ai tifosi era il nostro scopo, perché abbiamo visto lavorare una proprietà in maniera veramente entusiasmante. Io resto dell'avviso che quando tu tradisci degli amici l'amico deve sparare, non c'è alternativa, io la vedo così, sono molto drastico e quindi noi vogliamo regalare anche al pubblico, che è stato meraviglioso sia in Coppa che a Catanzaro e soprattutto ad Avellino, vogliamo regalare questi tre punti che sono importantissimi per trasmettere autostima. Abbiamo fatto mezz'ora del primo tempo, secondo me è molto importante sotto l'aspetto dell'intensità lavorativa, abbiamo speso molte energie, ci hanno dato una grandissima mano ai cambi, eccezionali, e questo è lo spirito che deve avere una squadra che vuole arrivare a un obiettivo che sapete benissimo, non è quello di vincere i campionati, ma è quello di dare il massimo per voler vincere una partita, perché c'è una sottile differenza. Mister, la scintilla per accendere il motore possiamo dire che è scattata finalmente? Beh, credo oggi di sì, nel senso che abbiamo avuto voglia di vincere, vedete, io sono sempre onesto, voglio esserlo finché camperò, abbiamo avuto due possibilità di fare il 2-0, con due interventi del portiere importanti, e poi abbiamo avuto un episodio favorevolissimo che attraversa il portiere fuori, che può cambiare la partita. Che è pensato in quel momento? Quando la palla è uscita o quando l'ho... Non è uscita. Che è un segno del destino. C'è stato un calo da parte di qualche giocatore, sì, ed è stato anche sostituito, perché proprio quando io vi dico che la situazione non è meravigliosa dal punto di vista generale è la verità, io non sono abituato ad accampare scuse, sono molto realista, mi piace lavorare, mi piace questo lavoro, lo faccio con entusiasmo e dico la verità. E allora adesso vediamo in Serie D che cosa è successo, ripartiamo proprio dal messaggero Pineto in remontata, Amadio decide al 95esimo, Sangiustese battuta per 2-1, ma che fatica, primo tempo deludente. Mister Epifani dice i cambi sono risultati decisivi. E poi dall'altra parte Chieti, un tris di felicità, segno anche i nuovi, finisce 1-3 a Porto Sant'Elpidio, apre le marcature il difensore Fantauzzi. Poi nella ripresa Venneri, il neoacquisto Bacigalupo, voluto proprio dall'allenatore Alessandro Grandoni. Questa la vittoria dei Neroverdi nelle Marche, l'ultimo trionfo in terra marchigiana risale a 32 anni fa e portò bene agli abruzzesi. In basso le parole proprio di Grandoni, le difficoltà ci hanno unito, complimenti ai ragazzi, non era facile, abbiamo sbagliato solo su un corner di spalla. Il Giulianova, ottimo pari amaterica, iniezione di fiducia, Suriano su rigore, replica Valenti, un risultato giusto. Nazari e Leonetti ci provano nel finale senza fortuna. Vitelli al debutto con autorità e Bartolini rassicura i tifosi giallorossi, Barlafante, gioiello del Giulianova non sarà ceduto. Va stese invece da urlo, tre gol al Fiuggi. Rigore negato nel primo tempo, Stivaletta super nella ripresa, poi doppietta il brasiliano Dos Santos. Lo stadio esplode di gioia. Mister Amelia dice questa la squadra che voglio. L'autorete è pari, ospiti beffati, Avezzano salvo, Vasto Girardi sempre in vantaggio, gaff del capitano all'ottantunesimo. I biancoverdi ci provano con Franchi, l'attaccante Gaeta, tra i più bravi in campo. Le parole di Mecomonaco che guarda avanti. Ripartiamo da questo punto. Il notaresco la spunta con la Iesina sul rush finale, termina 1-0. Vediamo la Serie D anche sul centro. Col paccio del Chieti, i neroverdi salgono al secondo posto in classifica a quota 7 punti. A Monte San Giusto, convincente vittoria sul porto Sant'Elpidio con un tris firmato da Fantauzzi, Venneri e Bacigalupo. Giulianova sorride, ottimo pali in casa del Matelica. Nei minuti finali, giallorossi rischiano di capitolare, ma sono i pali a salvare la porta di Bifulco e il risultato. Le parole del tecnico del Chieti Grandoni, questa è una squadra che sa lottare, quelle del presidente del Giulianova Bartolini, possiamo giocare al pari con tutti. vediamo le altre formazioni del Girone F, Stivaletta e Dos Santos, prima gioia per la Vastese nella ripresa, i gol, doppietta del brasiliano che stendono il fiugio all'Aragona, nel primo tempo sospetto fallo da rigore sulla punta bianco-rossa esposito, Amelia contento, è una squadra forte e compatta. Massa e Amadio rimonta da brividi del Pineto, vittoria di carattere sulla San Giustese e Marchigiani, subito in gol nel finale, arrivano le due reti bianca-azzurre, Avezzano graziato nel finale, il pari arriva su un autogol, Alde Marsi fa tutto il vasto Girardi, prima segna da guanno, poi la frittata di Ruggeri, evitata la terza sconfitta consecutiva, ma la squadra appare convalescente, le parole del tecnico dei bianco-verdi Mecomonaco, un momento difficile, ma lo supereremo, il notalesco prima vittoria in casa, un gol di Gaetani, stende la Iesina, Mister Vagnoni, i nostri avversari sono partiti meglio, ma nella ripresa siamo migliorati in eccellenza, Lanciano, poker per il riscatto, primo successo dei Rossoneri, al debutto in panchina di Di Pasquale, Miciche e Gragnoli, subito in gol, apre le marcature, Quintigliani sul rigore, nella ripresa Rosso a Sassarini, ospiti a segno con Francia e Torre, altre partite di eccellenza, Castelnuovo a punteggio pieno, Lepre e De Giglio piegano l'alba, il paterno si ferma sulla traversa, i nerostellati passano con Pelino, gara a porte chiuse, crollo spoltore, Orta non basta, la Bacigalupo brinda alla vittoria, secondo K.O. di fila per la squadra di Donato Ronci, nell'altra pagina di Curzio, Gela il Sambuceto, il Capistrello si gode, la vetta e poi Marzucco-Show, Delfino-Porto-Pescara, di raga 4-1 contro Langizia, le altre gare, felice gol, il cupello festeggia, primo capò per un deludente penne, l'arbitro si fa male e sospende, Torrese-Nereto a 12 minuti dalla fine, si ripartirà dallo 0 a 1, e poi l'anticipo con l'acqua e sapone, doppio Cellucci e del Mastro, Langolana pareggia in rimonta. Vediamo l'eccellenza anche sul messaggero, ecco qua, Lanciano cala il poker, Pontevomano finisce K.O., Quintigliani su rigore dal Via alle Danze, il raddoppio di Miciche, Frentani in 10 per l'espulsione di Sassarini. Dall'altra parte, con una spalla centrale sostanzialmente, anche se è uno simoro, Castelluovo e Capistrello a punteggio pieno, l'Aquila basta maisto gol, prima vittoria, battuti in casa i terramani del piano della lente, dunque prima gioia per Cappellacci. In basso troviamo le parole proprio del nuovo allenatore di Pasquale, del Lanciano, Lanciano, la squadra ha risposto. Bene, e questa era anche l'ultima notizia che leggiamo per questa edizione di Mattino 6, che torna domani puntuale alle ore 8, io vi do gli appuntamenti di oggi con la nostra emittente alle 14, la prima edizione del telegiornale, poi la seconda alle 19, la terza alle 23, ma questa sera ovviamente non perdete l'appuntamento con Replay, alle ore 21, con Enrico Rocchi e i suoi ospiti, e ovviamente si parlerà del successo ieri del Pescara al San Vito Marulla di Cosenza per 1 a 2. Io vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro una buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.